Al 90% si andrà a un campionato a 12 squadre e questo sicuramente è un passo avanti dal punto di vista della qualità e della credibilità del movimento, anche se ci saranno poi 4 partite in meno. Questo comporta che ci siano parecchi giocatori ancora disponibili sul mercato e la possibilità di allestire delle squadre mediamente abbastanza competitive con dei costi tutto sommato agevolati. Con tra l'altro dei giocatori, dei veri fuoriclasse che al momento sono ancora a spasso e quindi appetibili con meno squadre che li cercano. Sì, è per quello che il campionato sarà ancora più combattuto rispetto agli altri anni. Ci sarà un livellamento verso l'alto e speriamo che questo possa servire come svolta per ridare un pochino di fiato al movimento che risente in maniera incredibile della crisi economica. Almeno 10 squadre tra serie A1 e A2 non saranno i nastri di partenza e questo è veramente per la pallavolo un sintomo non particolarmente positivo. Per quel che riguarda poi la struttura della squadra, insomma, tendiamo ad ora chiaramente la conferma del nostro capitano Meoni che non è mai stata in discussione, che avrà un ruolo particolarmente importante all'interno della nostra società e quindi ci sono tutte le basi per costruire un sestetto di buon livello. Poi è chiaro che fuori cercheremo di attendere al massimo, d'accordo, per vedere un po' quello che sarà il livellamento anche in termini di costi del mercato, per cercare, insomma, con un budget abbastanza limitato di costruire comunque una squadra interessante che possa divertire, scatenare entusiasmo, ma al tempo stesso essere assolutamente coperta nei costi. Si è eletto da più parti, i tifosi ci sperano e sognano. È possibile una diagonale Meoni-Gavotto? È chiaro che Mauro Gavotto è un giocatore di grandissimo spessore, se andiamo a vedere le classifiche degli ultimi 7-8 anni, è sempre nelle prime posizioni, è un giocatore nel pieno della condizione del puntista psicofisico e quindi ha parecchie offerte. È sicuramente uno dei nostri obiettivi e adesso vedremo se riusciremo a strapparlo alla concorrenza. Di sicuro io vorrei cercare di impostare una diagonale tutta italiana, paleggiatore opposto, e qui chiaramente le alternative non mancano, perché poi dopo, avendo anche il libero italiano, si può giocare con centrali e bande anche straniere e di conseguenza spaziare su un mercato ancora più ampio.